Migliorare la qualità dell'aria del polo logistico e abbassare i consumi energetici delle aziende insediate nell'area efficientandoli il più possibile. Rispondono a questi obiettivi gli appalti indetti di Piacenza Expo per individuare le figure di due esperti, un mobility manager e un energy manager chiamati a lavorare a un progetto specifico nei prossimi tre anni. Gli avvisi pubblici sono stati pubblicati nei giorni scorsi sia all'albo pretorio del comune sia sul sito dell'ente fieristico e la procedura negoziata avviene mediante gara informale e inviti con le candidature che dovranno essere presentate entro il 16 gennaio per poi essere vagliate da un'apposita commissione. Il futuro energy manager che verrà selezionato avrà a disposizione una somma di 75 mila euro per tre anni e sarà chiamato a organizzare incontri con i proprietari delle aree logistiche e con gli operatori delle attività insediate per massimizzare il risparmio energetico, ridurre l'intensità energetica, utilizzare fonti rinnovabili e ridurre le emissioni inquinanti. Nell'ambito dello stesso progetto il mobility manager che avrà a disposizione 55 mila euro in tre anni dovrà anche mappare i parcheggi, i flussi delle auto e dei mezzi pesanti e analizzare i fabbisogni infrastrutturali.